Ben ritrovati. Ospiti di Spazio Città, Luigi Riservato, ex sindaco di Trani e Giuseppe Di Marzio, ex vice sindaco di Trani. Bentornati e bentornati dopo tanto tempo perché chi segue le curse di casa nostra sa che sia l'epoca sindaco riservato che vice sindaco Di Marzio furono un bel dia arrestati nell'ambito di quello che fu definito il sistema Trani. Un'inchiesta a largo raggio che coinvolse e ancora coinvolge in tante persone che determinò poi la caduta e lo scioglimento anticipato della consigliatura guidata da Riservato è che dopo sette anni, quasi otto anni, si è conclusa invece sia per Riservato che per Di Marzio con la piena assoluzione e con degli strascichi al contrario perché adesso sono loro che chiedono il risarcimento per quella che è stata l'ingiusta detenzione e diciamo il discredito, i danni morali, materiali che hanno subito. Sistema Trani, questa però è un'altra storia dove invece sono state chieste, sono state inflitte delle condanne per la parte tecnica amministrativa. Noi, quando ci furono gli arresti, quando scoppiò questa inchiesta, il rapporto tra la nostra emittente e mio personale con l'amministrazione riservato era pessimo nel senso che eravamo in quel momento molto critici nei confronti dell'operato del fermo restando i fatti, poi abbiamo il diritto di esprimere le nostre opinioni, giusto o sbagliate che siano, no no. Nel momento in cui scoppiò quell'inchiesta, cioè venne alla luce quell'inchiesta e ci furono gli arresti, ci vantiamo di aver assunto immediatamente una posizione assolutamente garantista, come sempre fa questa emittente televisiva e io personalmente, è di averla mantenuta in tutti questi anni, i fatti ci hanno dato ragione e ne siamo lieti, la stessa posizione garantista noi continuiamo a mantenerla nei confronti di chi invece è stato condannato, che avrà comunque un secondo, un terzo grado per cercare di dimostrare la propria stranietà ai fatti, ai fatti contestati. Abbiamo anche sottolineato, perché noi siamo comunque molto rispettosi della magistratura, perché bisogna essere rispettosi delle istituzioni, se no veramente cadiamo nel caos più completo. Le sentenze si accettano, ma si possono anche criticare. Onestamente alcuni provvedimenti, sia nel caso dell'unico politico ancora che è stato condannato, condannato, mi riferisco a Musci, sia di alcuni del personale tecnico-amministrativo, ci sono sembrati abnormi, però questo è il pistolotto iniziale, è il riepilogo delle puntate precedenti. Allora, Gigi Riservato, da dove vogliamo partire? Da dove vogliamo ripartire? Sì, ha detto bene, altro che pistolotto iniziale, direttore, devo ringraziarla, perché lei ha in veramente pochi minuti riassunto otto anni che sono stati di grande dolore, e quel bentornati ha provocato in me, ma sicuramente anche nel collega vice sindaco Giuseppe Di Marzi, una grande emozione. L'emittente di Telesveva ha sempre seguito la vita politico-amministrativa della città, anche della campagna elettorale precedente, come accade, racconta il territorio, e quindi inevitabilmente il 20 dicembre del 2014 ha raccontato anche quella parentesi molto dolorosa. Nel corso di questi otto anni noi siamo stati assenti a dimostrazione che abbiamo fortemente creduto nel rispetto delle istituzioni con il silenzio, perché come ho detto in altri contributi, dalle nostre parti una cifra di rispetto è anche il silenzio nei confronti delle istituzioni. Certo, ovviamente c'è da riflettere come si sia arrivati a una sentenza di primo grado, di assoluzione piena, dopo soli, si fa per dire, otto anni, tremila giorni, con il proscioglimento totale, con una soluzione piena, perché il fatto non sussiste, perché il fatto non è previsto nella legge come reato, per soli due capi di imputazione, che perlomeno in capo sottoscritto erano rimasti, per i quali addirittura il sottoscritto aveva anche rinunciato alla prescrizione. Nel corso di questi otto anni però sono maturate delle vicende molto importanti, intanto, incredibilmente, ma sarà oggetto di questo dibattito, abbiamo appreso che c'è stata una sentenza, a questo punto, proprio come lei dice, passata in giudicato, cioè definitiva, in capo al pubblico ministero che originariamente era titolare del nostro fascicolo. E poi pian piano abbiamo visto, di fatto, un quadro politico della città. Una sentenza di condanna nei confronti del pubblico ministero, Michele Ruggero, che era originariamente titolare del fascicolo. Esattamente. E poi piano piano abbiamo assistito a un aspetto politico, perché poi, come mi sono trovato più volte a dire, nel corso di questi otto anni, anche un complice, un bonus Covid, c'è stato comunque un sovvertimento della volontà popolare e democratica della città di Trani. Perché, come lei ricordava, noi siamo stati costretti alle dimissioni, ci sono stati quattro mesi di commissariamento, e poi a maggio del 2015, in virtù delle dimissioni che il sottoscritto come segno proprio di rispetto aveva subito rassegnato nei confronti, appunto, alla città di Trani. Furono dimissioni forzate? No, non furono dimissioni forzate, furono dimissioni... Perché sappiamo, sto parlando in generale, che molto spesso dice dimettiti per evitare conseguenze, perché non svolgendo più il ruolo non puoi più reiterare il reato, cioè quelle cose... Ci fu una valutazione anche di tal fatta con gli avvocati, però poi gli dico che la durata, della custodia cautelare, nel mio caso i domiciliari, fu talmente lunga, 45 giorni, che dimostrò come poi l'approfondimento di queste indagini preliminari praticamente era importante. E mi piace anche in questa circostanza riferire che all'esito, più o meno, della chiusura delle indagini preliminari, dopo pochi mesi il Pubblico Ministero, che aveva dovuto ricorrere a questo provvedimento drammatico, nel caso di altri quattro co-indagati, poi diventati co-imputati, reso ancora tuttale da una permanenza, sia pure per pochi giovani in carcere, il Pubblico Ministero, in capo sottoscritto, dopo pochi mesi, propose l'archiviazione dell'associazione a delinquere, come se quel capo di imputazione per il sottoscritto non fosse mai esistito. E ovviamente da parte del giudice per l'indagine preliminare non ci fu nessuna forma di opposizione. Quindi delle situazioni obiettivamente che vanno... Ma senza l'associazione a delinquere non decadeva i motivi dell'arresto? Assolutamente. Io ritengo che quel capo di... che sa bene non reggerà il dibattimento, ma che nella fase delle indagini gli consente di assumere dei provvedimenti dalle intercettazioni, magari dall'autorizzazione delle intercettazioni, anche all'arresto che invece sempre senza quel reato... Per rispondere tecnicamente alla sua giusta osservazione, le dico che, anche diciamo da avvocato, le dico che c'erano altri... la contestazione di altri capi di imputazione della concussione politica e della concussione lavorativa, tutti venuti meno con sentenza totale piena di proscioglimento, che avrebbero teoricamente potuto portare comunque a una misura cautelare. Ma indubbiamente, come lei dice, l'associazione a delinquere in capo al sindaco, venuta meno, di fatto io ritengo che il sindaco dell'epoca, cioè il sottoscritto, non andava assolutamente arrestato. Però tant'è che poi dopo, nel corso di ovviamente questi otto anni, per un veloce riepilogo, poi c'è stato un sovvertimento della volontà popolare della città di Trani, perché poi a maggio del 2015 ci sono state le nuove votazioni e con queste nuove votazioni il centro-sinistra è andato poi... Ma questa è un'altra storia. Allora, Giuseppe Di Marzi, Gigi Riservate è giovane, diciamo, rispetto a noi che siamo vecchie pellacce di Prima Repubblica, perché io rilevai all'epoca dei fatti, quando scoppiò l'inchiesta, due reazioni diverse, vedi un riservato distrutto, mi giungevano notizie, cioè... Invece tu eri incazzato come una iena e avresti, diciamo, una reazione rabbiosa, una reazione di forte contestazione, di... volevi far di fatto, per dirla. Allora, quindi, vissuta in maniera, diciamo, caratterialmente in modo diverso. Sì, allora, grazie innanzitutto per l'invito e grazie anche alla vostra emittente che seguo, che ha sempre mantenuto, come hai detto, una posizione garantista nei confronti di tutti, indipendentemente... Indipendentemente... Certo, non a giorni alterni, non a seconda di chi è l'indagato. Perfetto. Ritornando alla vicenda di cui Gigi ha parlato, naturalmente questo ha interessato le persone, ha interessato Gigi, ha interessato me, ha interessato altri amici politici che in quel momento si sono visti arrivare a casa il 20 dicembre del 2014, al primo mattino suonare il campanello ed entrare agenti della polizia e della DIGOS e perquisire l'abitazione. Ora, immaginiamo il trauma nostro, comunque, che facevamo politica, ma soprattutto delle famiglie, dove siamo immobilizzati. Non potevo neanche usare il telefono e chiamare l'avvocato o anche il mio figlio che abita accanto, che è legale, che è un avvocato, per cui non potevo muovermi, non potevo fare più nulla. Per delle cose che ritenevo di avere la coscienza pulita e le mani pulite, cosa che poi si è verificato dopo otto anni. Per cui in quel momento scatta la rabbia, perché sino a quando tu sai di aver commesso qualcosa, sai, cerchi di difenderti, invece in quel momento sapevo di essere tranquillo, sereno. Avevamo operato per due anni, in maniera, poi si può condividere o non condividere l'operato di ognuno di noi, però alla fine ognuno di noi fa l'esame di coscienza. Ero convinto di aver operato, non bene, ma benissimo. Noi ci siamo insediati al comune di Trani, dove c'erano una infinità di gare che andavano in prologa. Ero l'assessore ai contratti di appalti, quindi avevo il dovere di vedere quali erano le gare che oramai da tempo giacevano nei cassetti e che andavano in prologa, anche in maniera illegittima. Per più di una volta. E questa gara per cui siamo stati arrestati, la gara che riguardava la vigilanza del comune di Trani, era una gara che andava in prologa e che vedeva una liquidazione di circa 90 mila euro mensili. Quindi una gara grossa. E quando mi consultai con il segretario generale, e il segretario generale... Per la vigilanza di quali plessi? Tutti gli immobili comunali, villa comunale, le scuole, un po' tutto, insomma. Mi consultai con il segretario generale e il segretario generale, che in quel momento firmava anche i mandati, si spaventò e disse no, dobbiamo immediatamente fare la gara. Una gara che è stata tra l'altro svolta, nel giro di pochi mesi tra l'altro, e che ha visto naturalmente lo stesso tribunale dire che era una gara regolare, regolarissima. Quindi noi siamo stati arrestati per una gara che poi lo stesso tribunale ha detto e ha specificato che era una gara regolare. Io però mi devo permettere di una piccola notazione nei confronti di un imputato che lei ha citato, che tu hai citato, Maurizio Mosci. Questo è un fatto anomalo. Anomalo perché le sentenze, è vero, si devono accettare, non si devono... Però si possono commentare. Quello che abbiamo fatto. E io l'ho fatto, io... Perché io poi ho commentato dicendo che Musci il sistema Trani se lo faceva da solo. Bravo, benissimo. E io devo specificare una cosa. L'amico Maurizio Mosci era consigliere comunale. Allora io dico, con la soluzione del sindaco, con la soluzione del vice sindaco, un consigliere comunale può incidere in una gara d'appalto che è stata ritenuta allo stesso tribunale una gara d'appalto perfetta, regolare. E in che maniera può incidere? Non può incidere. Ma viene accusato da un cittadino che poi è, nell'ambito del sistema Trani 2 praticamente, condannato a 5 anni e 7 mesi, a una pena doppia. Allora dico, delle due cose l'una. O non ci sta la prima o non ci sta la seconda. Ma secondo me non ci può stare la prima in quanto un consigliere comunale non può incidere in nessun motivo in una gara d'appalto. Questa precisa si fa. Per cui ero tranquillo, sereno. Però in quei momenti ti scatta la rabbia. Non può essere tecnicamente. Perché? Poi può anche, un consigliere può anche essere andato dall'assessore a dire vedi se puoi, diciamo, a livello di... E' tutto fine a se stesso. Ma questo mi riporta indietro nel corso degli anni ecco la rabbia di cui facevi cenno. Perché noi nel 1993, a distanza di 30 anni, fu sciolto il Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiosi. sciolto il Consiglio Comunale. Anche in quella vicenda dove la città di Trani ha un marchio oramai indelebile che nessuno ha potuto cancellare e anche questo è una cosa ingiusta, dove tutti i processi tenuti nel testo dell'asciuglimento del Consiglio Comunale dall'allora prefetto Catenacci sono stati tutti assolti in primo grado non in appello non in Cassazione in primo grado dal Tribunale di Trani. Allora dico perché questa città deve pagare la presenza del Tribunale? Eppure ci tenete tanto. Certo, ci teniamo tantissimo tra l'altro Trani non dimentichiamo che è stata sede anche dalla Corte d'Appello. Dico però perché deve pagare in due vicende nel 1993 prima e nel 2014 cose di cui la politica non ha colpa. Questa è la rabbia che è scattata in quel momento. Allora avvocato riservato io diciamo soprattutto i social network che diventano ogni giorno di più lasciatemelo dire una fognatura a cielo aperto abbiamo letto di tutto di più io onestamente avrei fatto gli screenshot di tutti i commenti e oggi mi sarei fatto una posizione con i risarcimenti dei danni e quindi ve ne sono state dette di tutti i colori Mariù è un fetto buono cioè c'era il no allora io non dimentico mai io diciamo nei miei commenti politici non uso il fioretto ma preferisco di gran lunga la scimitarra però sino a quando si tratta della battuta ironica del commento duro del di un un termine forte e di una posizione precise drastica stiamo parlando di politica stiamo parlando di amministrazione non stiamo parlando della vita delle persone quando accadono fatti come quelli che sono accaduti a voi stiamo parlando della vita delle persone a questo punto bisogna essere uomini perché stiamo parlando della vita della non della singola persona ma anche delle famiglie del cielo c'è un tutto un contesto come l'hai vissuta malissimo con uno stravolgimento familiare veramente significativo io racconto senza timore di riferire vicende che potrebbero risultare familiari all'epoca dei fatti il 20 dicembre del 2014 mia figlia frequentava la quinta elementare oggi a sentenza di assoluzione la ragazza frequenta il quinto superiore e studiando nel suo percorso presso l'ite saldo moro sia pure per cenni in materie giuridiche ed economiche ha compreso tutta la vicenda perché come lei poi ben diceva sui motori di ricerca è sufficiente digitare il gigi riservato ed usciva di più e quel giorno per una singolare coincidenza si è trovata ad essere presente in aula per assistere alla lettura della sentenza aveva la sesta ora io le rappresentai che probabilmente la sentenza sarebbe stata letta a quell'ora invece la sentenza slittò in fondo di un paio d'ore come le telecamere di Telesveva seguirono e quindi si è trovata inevitabilmente a seguire in aula l'epilogo di una vicenda tristissima alimentata da un livore in effetti spropositato esagerato ora le campagne elettorali le vite amministrative delle cittadine con 50 60 mila abitanti nel caso di Barletta di Andrea con una popolazione più ampia si sa alla fine tutti sanno tutto e quindi di conseguenza a volte ci sono anche dei falli che vanno proprio sul personale dei falli usando un termine calcistico che possono veramente consentire e che possono determinare un infortunio serio però ecco era completamente inaspettato anche perché noi abbiamo retto la città per solo due anni in due anni poter l'incipit del pubblico ministero e del procuratore della Repubblica dell'epoca sul quale sempre leggo apprendo esserci dei coni d'ombra o forse delle nubi nerissime ma sono notizie che apprendo dalla stampa e per le quali anche io sono estremamente garantista però voglio dire c'era qualcosa che non andava sia in capo a uno e in capo all'altro l'incipit della conferenza stampa fu non esiste solo a Roma un sistema di Roma capitale ma c'è anche una trani capitale eppure in capo a noi quelle perquisizioni delle quali parlava l'allora vice sindaco di Marzio non portarono a nessun risultato lei sa bene che quando c'è la notifica di una misura cautelare c'è una perquisizione finalizzata a verificare se nella casa del indagato c'è una quantità spropositata di contanti ci sono dei monili c'è del materiale che può essere ritenuto importantissimo ai fini investigativi tutti in capo a tutti esiti negativissimi nessun materiale probatorio utile eppure sui social come lei ricordava fuoriuscivano questi conati veramente insopportabili a fronte di quali io sa cosa mi trovo a dirle io spero fortemente che oggi come andava prima rispettata un'iniziativa della procura della repubblica così venga a maggior ragione fortemente rispettata una sentenza del tribunale e chi ha avuto quel dubbio possa fortemente ricredersi e possa anche idealmente chiedere scusa Marzio allora innanzitutto io devo ringraziare in tutti questi anni mia moglie che mi è stata sempre accanto e che ha sempre creduto in me nella mia innocenza e mio figlio perché la famiglia è importante in quei momenti senza la famiglia non si va da nessuna parte parte la cabina parte la cabina e quindi ringrazio loro per essermi stato sempre accanto e ringrazio tutta la famiglia intera perché ha sempre creduto nell'operato svolto certo chi fa politica deve anche mettere in conto che prima o poi un avviso di garanzia gli può arrivare non si discute e fu una delle prime cose che io dissi all'amico Gigi quando fu eletto sindaco dissi Gigi non credere prima o poi nel corso di cinque anni un avviso di garanzia lo riceverai sereni tranquilli se abbiamo un abuso d'ufficio non si nega a nessuno non si nega a nessuno però arrivare a quei provvedimenti restrittivi no assolutamente e quindi l'ho vissuto bene a livello familiare ma male a livello di opinione pubblica naturalmente perché come hai detto a livello di opinione pubblica poi ognuno ci inzuppa il pane come usiamo noi dire quindi diciamo che nel corso di questi anni al di là dei fatti personali di salute che ognuno di noi nel corso di questi anni ha avuto praticamente io ho avuto anche un danno a livello aziendale perché non voglio dire che nel momento in cui la banca mi ha chiesto la documentazione per rinnovarmi il fido il fido mi è stato revocato in 24 ore in 48 ore perché poi mi hanno informato che chi ha un reato come un reato un'accusa come l'associazione delinquere immediatamente tuttora tuttora immediatamente vengono revocati quindi lei può immaginare che cosa accade in un'azienda quando in 24 ore c'è la revoca dei fidi non quindi è questo è un aspetto per cui oggi non sono rancoroso non sono livoroso nei confronti di nessuno però io chiedo che così come noi rispettiamo le sendenze anche altri debbano rispettare le sendenze e mi riferisco sì 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 però mi riferisco al sostituto procuratore che all'epoca adottò quelle misure cautelari nei nostri confronti per lui ha una sentenza passato in giudicato quella la possiamo commentare perché è una sentenza che ha visto il primo il secondo il terzo grado quindi la Cassazione questo nell'ambito dello stesso processo nostro è stato condannato in via definitiva ora io voglio dire il protagonismo può stare da parte di un politico da parte di un cittadino ma non ci può essere da parte di un magistrato che decide sulla vita degli altri io se lei mi permette mi sono portato qui una testata giornalistica nazionale di alcuni giorni fa in cui parla di questo magistrato e dice è stato il simbolo della procura di Trani per le clamorose inchieste finite sulle prime pagine dei giornali ma terminate tutte con archiviazioni e assoluzioni quella sui presunti complotti contro l'Italia da parte delle agenzie di rating quella contro la Deutsche Bank per la vendita di titoli di Stato italiani nel 2011 quella sulle presunte pressioni dell'ex premier Silvio Berlusconi al commissario Agicom Giancarlo Innocenzi per la chiusura di anno zero quella contro cinque ex dirigenti dell'American Express per truffa ed usura fino ad arrivare all'inchiesta sul presunto legame tra vaccino e autismo tutti i procedimenti finiti con nulla di fatto e il giornalista conclude dicendo come se non bastasse questo magistrato che si chiama Ruggero è anche stato rinviato a giudizio oltre alla condanna definitiva in altri due processi per violenza privata e falso in atto pubblico con l'accusa di aver falsificato i verbali di alcuni testimoni è quello che mi riguarda e di aver falsificato i verbali e minacciato altri testimoni per un altro imputato una situazione paradossale perché Ruggero intanto potrà continuare a svolgere il suo lavoro a differenza dei politici da lui indagati nel corso del tempo e costretti alle dimissioni in virtù del pericolo di reiterazione del reato un pericolo che forse per i magistrati non esiste cioè questo articolo è firmato da Ermes Antonucci quindi le dico questo la mia non è una vendita io dopo aver appreso che questo magistrato aveva falsificato il verbale che ha portato al mio arresto con i miei legali abbiamo fatto sì che abbiamo investito la procura di Lecce la quale procura di Lecce nell'udienza preliminare ha deciso per il rinvio a giudizio di questo magistrato il cui processo inizierà a giugno del 2023 quindi vorrei che quello che è capitato a me o posso dire quello che è capitato a noi non capitasse ad altri cittadini proprio per via e per mano di questo magistrato bene fermiamoci per un minuto dopodiché insomma voglio anche guardare un po' un po' avanti e vedere insomma di di comprendere anche quelle che sono possono essere può essere un ritorno alla politica la voglia di rimettersi in gioco per superare completamente questi anni che sono stati certamente anni terribili lo faremo tra un minuto per la visione di comprendere un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene, siamo tornati in studio per continuare la nostra intervista a Gigi Riserbato, ex sindaco di Trani e Giuseppe Di Marzio, ex vice sindaco di Trani, che otto anni fa furono coinvolti in un'inchiesta giudiziaria che portò al loro arresto, portò allo scioglimento anticipato della consigliatura a Trani e che poi sono stati totalmente assolti con formula pienissima da quelle accuse. Allora, un professionista, un imprenditore. Peppino Di Marzio ha già fatto cenno ai danni che ha subito la sua azienda a seguito di quell'inchiesta giudiziaria. Io così come immagino che un professionista a fronte di accuse di questo genere, se non si trova da oggi al domani senza clienti, poco ci manca. Allora, parliamo di Vile Pecunia, come si può quantificare il danno subito? Allora, io sono avvocato di un ente pubblico, cioè sono avvocato dipendente di una società pubblica che inevitabilmente all'indomani della notifica della custodia cautelare mi ha dovuto sospendere dal servizio. Con una raccomandata che si ha ricevuta di ritorno, spedita all'epoca, che si univa a tutte le botte notizie che giungevano in quel momento, perché era, nel caso di dire, una pioggia di meteoriti incredibili. E quindi ci fu anche il provvedimento di sospensione. Il provvedimento di sospensione porta ovviamente a uno stipendio neanche a un quinto, ma porta a uno stipendio pari a zero, con ovviamente la sospensione dell'internità di sindaco. Penso che di più non si debba aggiungere, cioè praticamente ti ritrovi con una situazione completamente azzerata. A distanza di due o tre mesi, revocata la misura cautelare, devo dire che la mia società pubblica ressi conto dalla lettura delle carte che in alcun modo la mia vicenda era una pietra di inciampo, diciamo così, frutto dell'esercizio, dell'espletamento di un mandato istituzionale e non riguardava in alcun modo l'esercizio delle mie funzioni di dipendente, mi ha consentito una riammissione in servizio. Sostanzialmente però, come le lascio immaginare, con un ruolo diverso, cioè nel senso che il sottoscritto era appunto il responsabile dell'ufficio legale di questo ente pubblico e ovviamente rientrato in servizio, devo dire anche in tempi ragionevoli, con attestati di stima che sono state carezze per il cuore e per una ripresa di vita normale, si è concordato sostanzialmente una nuova destinazione in ufficio. Quindi io di fatto ho avuto un danno incredibile perché poi mi sono trovato da essere appunto il responsabile dell'ufficio legale, uno dei responsabili dell'ufficio legale, a occuparmi di tutt'altro, cioè a ruoli amministrativi che non comportassero alcuna situazione. Ma le aggiungo anche di più, dopo pochi giorni ci fu, sempre ritornando a quello che le diceva, anche la notifica da parte dell'ordine professionale, perché l'ordine professionale per lo strepitus fori che c'era stato ha notificato in capo sottoscritto l'avvio di un procedimento disciplinare, di un procedimento disciplinare che per un po' è stato sospeso, poi intervenne anche il Covid e che poi devo dire, devo riconoscere con grande coraggio da parte del Consiglio di Disciplina che non c'è più per via della riforma presso l'ordine degli avvocati di Trani, ma ormai siede presso l'ordine degli avvocati di Bari, che è anche sede di Corte d'Appello, ritenne di affrontare la mia vicenda e a novembre del 2022, ancora lontano dalla data della pronuncia di insettezza, anzi novembre 2021, decise di procedere con un proscioglimento in capo sottoscritto, proprio perché gli addebiti mossi dalla Procura e dalla Repubblica e poi dal Tribunale nulla avevano a che fare con un aspetto disciplinare. Ma questo proprio per dire come gli sconvolgimenti poi sono veramente totali e determinano degli effetti proprio boomerang. Marzio? Avete fatto una richiesta, avete in atto una richiesta di risarcimento? No, innanzitutto sono prematuri i tempi, atteso che la sentenza comunque sarà depositata entro 90 giorni dal 2 febbraio, poi ci sono i famosi 45 giorni perché la Procura potrebbe sempre appellare la sentenza, insomma, augurandoci che non ci sia un ulteriore strascico su questa vicenda qui. E poi tireremo un po' le somme di tutto perché, le voglio dire, mentre il Sindaco comunque credo che sia coperto a livello anche di spese, io parlo di spese, al di là dei danni subiti, di spese, perché comunque sia... Sotto un po' l'avvocato. Certo, gli assessori purtroppo non sono coperti e quindi siccome gli assessori sono di nomina del Sindaco, non sono coperti e quindi devi pagare anche le parcerie legali che per 8 anni di processo sono pesantissime. Devo ringraziare sempre il mio amico avvocato di Terlizzi che sino a questo momento mi ha graziato, appazientato. Gli hai mandato un po' di caffè, diciamo. Anche quello. Solo che negli ultimi tempi non beve più neanche il caffè. Non beve. Perfè. Quindi questo è... E poi, ripeto, ancora una volta ci sono anche dei danni fisici che ognuno di noi, al di là di quelli personali e anche familiari, che nel corso degli anni non voglio parlare di danni fisici personali perché quelli sono un'altra cosa. Comunque sia, lasciano il segno determinate situazioni. Allora, siamo in conclusione. Riservato che fai? Torni in politica? Beh, diciamo, è prematuro. A tre anni si vota nel 2025. Non vuole risultare un momento di autoreferenzialità o di retorica. Me lo stanno chiedendo in tanti. Ma al momento ci stiamo veramente ancora leccando le ferite per quello che è accaduto. Incredibilmente è accaduto. E che ha portato, questo lo voglio ripetere, a un sopportimento della volontà popolare cittadina. Perché le elezioni che hanno portato all'elezione del nuovo sindaco per la prima e la seconda volta sono, questo lo devo dire, formalmente ineccepibili ma sostanzialmente viziate da un peccato originale. Poi reso ancora più grave perché nel corso di questi otto anni il centrosinistra ha imbarcato, guarda caso, numerosi esponenti del centrodestra e guarda caso qualche esponente che aveva avuto un ruolo proprio determinante nel riferire notizie alla procura che poi sono state ritenute dal tribunale non attendibili e quindi forse possono essere ritenute delazioni. Quindi veramente un quadro politico da volta stomaco. Non riesco a trovare, come dice lei, termine diverso da uno così chiaro e così netto. Ora valuteremo. Il centrodestra purtroppo oggi, per fortuna nel 2020, ha portato alla rielezione sia pure con gruppi consigliari ridottissimi di Fratelli d'Italia, due consiglieri, Lega, un consigliere e Forza Italia, un solo consigliere. Poi ci sono altri due consiglieri che fanno capo, cioè il candidato sindaco e un altro consigliere che fanno capo a una lista civica di area di centrodestra, ma c'è tutto da ricostruire. Io spero fortemente che i vertici di questi tre partiti che costituiscono la nomenclatura principale possano, diciamo, incominciare a ragionare per gettare delle basi per un dialogo che poi possa essere costruttivo. Di Marzio? Direttore, hai detto prima, noi siamo della prima Repubblica. siamo. Però io voglio ricordare che la politica è una droga. Per quello che mi riguarda la politica è stata una droga. Io ho visto, cioè possiamo ricordare, uomini potentissimi ridotti a fare gli assessori di piccoli comuni, sono stati ministri, sono stati pur di, perché non riescono a distaccarsi. Basta citare Ciriaco De Mita, tra l'altro presidente del Consiglio, presidente del partito della democrazia cristiana e sindaco di Nusco. Quindi dicevo la politica è una droga e io purtroppo per la politica e non per altro mi sono drogato all'età di 18 anni, quando la mia prima tessera di istruzione della democrazia cristiana era firmata Aldo Moro, quindi che conservo e custodisco. Per cui nel corso degli anni, anche quando ho avuto la precedente… Erano i tempi di Don Angelo Pastore a Trani. Esatto, di Don Angelo Pastore che comunque ha dato veramente tanto, tanto, tanto lustro e tanto alla città di Trani e non solo alla città di Trani, per i ruoli che egli ha ricoperto. Ricordiamo soltanto una per tutte, l'ospedale di Trani, che poi è finita, non voglio parlare di quella misera vicenda. E' un'altra trasmissione, perché poi tra l'altro con l'ospedale di Trani io ho avuto a che fare, avendo ricoperto la carica di presidente dell'ospedale, sempre nell'epoca di Don Angelo Pastore e poi di componente del comitato di gestione della USL, allora era USL. O era Saub. USL, Unità Sanitaria Locale. Poi c'è stata l'ulteriore vicenda per cui mi ha visto in panchina per altri 7-8 anni e poi sono venuti a cercarmi dopo l'assoluzione naturalmente dei primi processi e sono venuti a casa, posso anche fare nomi, l'onorevole Gero Grassi, che poi è stato onorevole candidato all'epoca della Margherita, la servo Dio perché io potessi tornare in politica, ma mi volevano portare in politica dalla parte del centro-sinistra praticamente, con la Margherita che si era un po' alleata all'epoca con il Partito Comunista, non me la sono sentita, la mia è sempre stata una posizione, diciamo, nella democrazia cristiana di centro, ma ho optato in virtù anche di determinate vicende che nel corso degli anni si sono susseguite, perché non devo dimenticare che all'epoca Presidente della Commissione antimafia a livello nazionale era Luciano Violante, che faceva parte del Partito Comunista tra l'altro, e che comunque ha condotto un po' le indagini sullo scioglimento del Consiglio Comunale, sulla politica, lo scioglimento del Consiglio Comunale, quando poi la politica è stata ritenuta totalmente estranea da quelle vicende di un famoso tranese che aveva commesso tutt'altro, tutt'altro i reati praticamente, non quelli di intromissione con la politica, e quindi sono venuti a cercarmi. L'aveva con Violante, però io sto rilevando anche dei casi più recenti, c'è stato lo scioglimento di Cerignola, di Manfredoni, l'ultimo di Trinitapoli, che il ruolo principale a, diciamo, il Ministro degli Interni alla fine si affida a ciò che gli dice il Prefetto. Esatto, firma una relazione. Firma una relazione. Quindi, diciamo, a determinare lo scioglimento del Consiglio Comunale di Trinitapoli per mafia, Violante c'entra poco. No, Violante non ha, il Ministro era Mancino, il Ministro degli Interni. Io parlo sempre, perché lui era a capo della Commissione Antimafia, per cui aveva anche interrogato quel famoso personaggio tranese che aveva vomitato di tutto e di più sulla politica, ritenuta anche in quei casi completamente estranea. Quindi sono venuti di nuovo a cercarmi e mi sono rimesso in gioco, perché poi volevo, era una scommessa con me stesso, volevo sapere se il cittadino tranese aveva avuto fiducia nell'allora sindaco di Marzio, oppure lo aveva dimenticato completamente. Beh, anche in quella circostanza, quando mi sono candidato, sono stato uno dei maggiori suffragati. Comunque la città ha risposto e ha creduto nella persona. Gli avevano chiesto di fare il candidato sindaco. Esatto. Io facci anche una battuta, lei si incazzò terribilmente per quella battuta, perché io avevo saputo che il candidato sindaco era stato deciso e non era lei. e scrissi, il candidato sindaco e credo proprio… No, noi abbiamo fatto le primarie. No, il candidato, quindi la volta precedente. La volta precedente è stato Pinuccio Tarantini. Dice, aspettano, non sanno, semplicemente non sanno come dirgliela a Di Marzio. E Di Marzio incavolò come un altro. Allora, ad onore del vero, Pinuccio Tarantini, quando è stato candidato sindaco, ha avuto l'appoggio di tutti, compreso quello del sottoscritto. Assolutamente. Quando è nato, diciamo, un piccolo screzzo superato immediatamente, quando Pinuccio Tarantini fu costretto a dimettersi un anno prima, per cui si doveva ricandidare sindaco. Soltanto in quella fase si è affacciata una mia eventuale ipotetica candidatura, ma poi venuta meno nel corso del tempo. Quindi, diciamo, tu stai, se ti vogliono… No, io dico soltanto che la passione c'è, comunque c'è anche l'età praticamente, e comunque siccome mi sento di essere, di poter dare ancora qualcosa alla città, non in prima persona, ma se mi vogliono chiamare per un fatto storico, per la esperienza che io ho maturato in questi miei 50 anni quasi di politica, io sono a disposizione. Ripeto, sempre mettendomi al servizio di altri. Va bene, grazie per essere venuti, per aver partecipato alla nostra trasmissione, per aver ricordato anche dei fatti dolorosi, ma era anche una trasmissione dovuta proprio per far parlare chi è stato in silenzio per così tanto tempo. Grazie a Gigi Riservato, grazie a Pepino Di Marzio, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito con la consueta cortesia attenzione a risentirci. Grazie a tutti. Grazie a tutti